In realtà il programma Smart Italy parte da un concetto fondamentale. Le città stanno cambiando, stanno cambiando sostanzialmente. Credo che la pandemia e il Covid ci abbiano insegnato quanto sia importante fruirle anche differentemente. E soprattutto all'interno di questo contesto è importante fare in modo che la possibilità di sviluppare le città in maniera differente non sia un'occasione spot fatta magari differentemente città per città, ma fatta invece in maniera uniforme e sinergica con una strategia e con un sistema paese. In questo contesto abbiamo sviluppato il programma Smart Italy del Ministero dello Sviluppo Economico con tre assi fondamentali. Il primo è quello relativo alla Smart Mobility, il secondo che è abbastanza attuale in questo momento che è quello del well-being, del benessere e ultimo abbiamo citato anche a più riprese oggi che è il tema della fruizione dei beni culturali. In che modo? Andando a sfruttare la sperimentazione che 12 città italiane stanno facendo nell'ambito 5G. Quindi cercare di poter utilizzare questa nuova struttura, questa nuova tecnologia per capire che tipo di possibilità si possono dare ai cittadini. ugualmente in che modo? Sfruttando da una parte i fabbisogni delle pubbliche amministrazioni che sono coinvolte e dall'altro campo utilizzando il tema degli appalti digitali, quindi trasformando l'opportunità degli enti locali in contesti che poi saranno trasformati in prodotti a scaffale che potranno essere utilizzati inizialmente da queste città ma poi anche da tutti gli enti locali che si dotteranno di una struttura tecnologica. Perché abbiamo, come dire, ritenuto utile coinvolgere immediatamente il demane all'interno di questo programma? Perché nell'ambito di una infrastruttura che cambia, nell'ambito di una città che cambia il fatto di poter vedere la rete di edifici che abbiamo disponibili in soggetti attivi e non più come soggetti passivi, come di fatto ospiti delle pubbliche amministrazioni ma essenzialmente dissipatori di valore, invece i soggetti che il valore lo possono generare. E lo possono generare in che modo? Generando dei servizi per i cittadini ma anche essendo loro stessi, come dire, edifici connessi, edifici che possono a loro volta creare rete e quindi possono far parte di un'infrastruttura complessiva che si viene a creare. Questo perché è importante? Importante perché nell'ottica della nuova fruizione di queste città e quindi nella nuova fruizione anche della possibilità dei cittadini di utilizzare le città differentemente il fatto di avere un soggetto pubblico come il Demanio che si fa portavoce di questo tipo di cambiamento e quindi diventa soggetto promotore da questo punto di vista è qualcosa di nuovo ed è qualcosa che noi ovviamente all'interno di questo programma ci siamo immediatamente proposti di portare avanti. Chiaramente questo è coerente con quello che sta dichiarando, abbiamo visto anche nelle slide precedenti, l'Unione Europea, quindi il fatto che noi dobbiamo muoverci in un contesto che sia sostenibile, dobbiamo muoverci in un contesto che debba essere sempre più digitalizzato, fa anche in modo che questo tipo di proposta poi si possa estendere non soltanto alle città più grandi che sono quelle magari a cui viene in mente immediatamente questo tipo di generazione, ma proprio per dimostrare che questo tipo di programmi possono essere stesi a tutti i territori, anche i borghi più piccoli. Abbiamo contestualmente portato avanti un tema che sono i borghi digitali proprio per cercare di far capire che in questo contesto non è solo la grande urbanizzazione che ha delle opportunità dal punto di vista digitale, ma assolutamente anche i territori più piccoli che possono costituire un'opportunità anche di qualità della vita e di ripopolamento, visto che di spopolamento stiamo parlando, per in realtà cercare di attrarre anche con la tecnologia o con nuove possibilità iniziative, cittadini, soggetti che magari non avrebbero pensato che quei territori potessero essere fruibili. Quindi il punto sostanziale di questo programma è cercare in qualche modo di cambiare la percezione del cittadino che in questo momento fruisce la città in maniera normale, così come abituato, dandogli la possibilità attraverso la tecnologia, attraverso le nuove infrastrutture, di avere nuovi servizi, facendoli in modo standardizzato. Questa è una parola chiave che secondo me è molto importante e che stiamo cercando di promuovere. Cosa vuol dire standardizzato? Significa che fino a questo momento le città che stanno sperimentando si sono mosse ognuna nella propria direzione. Ognuno ha fatto il proprio programma di smart parking, il proprio programma di smart mobility, il proprio programma di efficientamento energetico. La nostra intenzione, perché questo sicuramente deve fare un governo, deve fare uno Stato, è invece quello di dare uniformità, di dare una standardizzazione e fare in modo che se qualcosa di buono viene sperimentato da queste città, poi possa essere fruito per tutto il Paese. Grazie.